Le cose belle hanno una fine, mica come The Walking Dead che va avanti da quante stagioni? Dieci, che gran rottura. Siamo stati insieme per tanto tempo e un giorno ci rivedremo. Mi prendo una pausa, un anno sabbatico diciamo. Sono serio, ritornerò. Nel frattempo sostenete gli altri eroi, i veri eroi. Come i medici, i poliziotti, i poliziotti bravi, i cavalieri che amano la propria calisi, malgrado siano stati frinzonati brutalmente. Appunto, vi lascio nelle loro mani, passerà loro il compito di divertirvi e ammaliarvi. In fin dei conti io sono solo un genio, miliardario, playboy, eccetera, eccetera. Non ho appeso la mia armatura al chiodo. L'ho prestata a qualcuno che saprà farne buon uso. Sono live su Twitch. C'è davvero, c'è, ce l'ha fatta. Dai, è il suo primo giorno. Non ci posso credere che non è il quortinario da avertire? No, 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 che mi piace. Deve solo prenderci la mano. Va bene, credo di aver fatto una cazzata. Torno in servizio domani, ok? No, 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 no. No, 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 no. Grazie.